Inaugurazione della chiesa recuperata dopo il terremoto, quanto è importante per una comunità come questa avere di nuovo la propria chiesa? La chiesa è una casa per tutti e di tutti, è un riferimento importante per fare comunità, quindi riaprire la chiesa dopo la riapertura anche della scuola e la seconda chiesa nel piano delle 33 chiese della diocesi di Ferrara e Comacchia, significa dare un segnale importante di speranza a una comunità ma anche dare un segno importante per ricostruire un tessuto che era stato fortemente segnato dalla ferita del territorio con il terremoto del 2012. Nel complesso della diocesi a che punto siamo dal punto di vista degli edifici religiosi? Gli edifici religiosi sono venuti dopo la ricostruzione delle realtà imprenditoriali, delle case, come giustamente scelta importante prima le persone. Siamo solo agli inizi e questo è importante dirlo, bisognerà adesso accelerare con un impegno insieme di oggi e di istituzione perché quanto prima tutte e 114 le chiese e non soltanto 15 chiese fino ad oggi si erano veramente riportate allo stato originario ma soprattutto ritornano ad essere la casa di una comunità, il luogo della preghiera ma anche della identità di una comunità cristiana.